buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare il like attiverà la campanellina per essere sempre aggiornati ora andremo a parlare della fase ciclonica che avvolgerà il centro sud in questi giorni fino a martedì appunto si strutturerà un minimo depressionario molto molto intenso tra la sardegna e le coste laziali che richiamerà moderate precipitazioni saranno queste questo minimo depressionario sarà alimentato dal contrasto di aria calda e umida proveniente da sud est e dall'aria gelida o comunque fredda proveniente da nord e da nord ovest questo darà origine a una situazione di maltempo con precipitazione a carattere anche temporalesco su lazio campagna e basso abruzzo con intense precipitazioni che con intense precipitazioni soprattutto nella giornata di lunedì sera e soprattutto di martedì poi questo vortice ciclonico si sposterà lentamente verso sud est coinvolgendo anche il basso molise la basilicata e la puglia il vortice ciclonico poi comincerà a sfaldarsi dalle prime ore di mercoledì lasciando spazio a correnti secche da nord quindi lascerà il bel tempo a causa dello spostamento di nubi gli accumuli dove sul basso sul lazio dovranno dovranno essere fra i 50 e 80 millimetri di pioggia con possibili in onda piccole inondazioni la neve cadrà abbondante con accumuli anche di 40 50 anche 60 centimetri oltre i 1000 1200 metri possibile imbiancata l'aquila questo tutto grazie a delle correnti da nord che potrebbero anche abbassare la quota neve fino a 800 900 metri su marche abruzzo ora parleremo di venti che saranno molto forti a rotazione ciclonica nella giornata soprattutto di martedì con raffiche fino a 40 50 chilometri orari allo sporsarsi del vortice ciclonico verso la grecia avremo anche forti venti di tramontane maestrali sul lato adriatico con raffiche anche di 60 70 chilometri orari per ora è tutto il prossimo appuntamento meteo